Poi ragazzi e comunque bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft Ita, la serie principale di Minecraft da vanilla ragazzi Soprevivenza mi raccomando di lasciare un bel like e un bel commento e soprattutto iscrivervi al canale Nell'episodio di oggi ragazzi dovrebbe essere il 115esimo, mancano 3 episodi 118 Ho letto tutti quanti i 470 commenti e mi hanno fatto spaccare da ridere perché alcuni hanno avuto delle idee assurde Finalmente faremo un po' di design per gli angoli dell'acquario perché questo qui tra un po' dovrebbe trasuonarsi in acquario Oggi faremo gli angoli che saranno quelli definitivi che ho fatto vedere l'altra volta E in più ho pensato che secondo me dovrei fare un piccolo alloggio qua sotto Vi faccio vedere perché qua intanto ho messo del vetro a modo di protezione un po' diciamo a livello estetico Per questa stanza qua dove ci saranno tutti quanti macchine da redstone e qua c'è ancora la nostra cesta di scarico di un bel po' di tempo fa Poi nient'altro ho messo qua e là delle ceste con cui riempire la prisma e tutto quanto il resto Così siamo un attimo più comodi per lo smistamento, infatti qua sto già iniziando a svuotare tutto perché fa davvero troppa roba Come dicevo appunto nell'episodio di oggi ci sono tutti quanti questi materiali qua che sono tornato a casa a raccogliere Intanto i miei capelli fanno quello che vogliono come sempre Comunque sono andato a casa a prendere tutti quanti questi materiali perché appunto oggi lavoreremo agli angoli dell'acquario Dove spero che vi piacciono, vi farò vedere comunque la costruzione del primo angolo Poi in timelapse vi farò vedere tutti quanti gli altri C'è da andare a prendere della prisma in qua sotto che ovviamente mi ha fatto la farm, non è che dici Prendiamo questa appunto, prendiamo da questo lato, ne prendiamo un bel po', non credo ci serva anche questa qua Prendiamo anche un po' di questa che tanto male non fa Ho un'altra idea, cioè quella di togliere il quarzo a questo ovviamente perché mi fa davvero cagare E voglio fare qualcosina con le sea lantern, spero che comunque le idee vi piaccia È da lavorare però, come sempre è un progetto nuovo di pacca quindi è tutto quanto da pensare e da lavorare fatto per bene Comunque c'è da lavorare l'angolo, qua ho degli screen a lato che devo ancora però prendere Il pillar appunto era da fare con i prison in brick quindi bisogna tirare di 7 in su Quindi 1, così facciamo così molto più in fretta, dovremmo essere già 3, sì 4, 5, 6 e 7 Qua poi ci andranno le sea lantern, dopo le metterò a posto Poi qua si deve fare un rientro del genere, ok Allora qua c'è da fare un bel motivetto che a me piace davvero un sacco Spero che anche a voi vi piacere, più che altro è tutto quanto un lavoro molto difficile da fare di precisione Perché non vorrei più che altro sbagliare blocchi e stare qui, poi mettermi, rifare tutto quanto Perché è veramente tutto quanto un'ansia devastante C'è da fare un pochino tutto quanto questo Ghirigoro qui che dà molto effetto 3D E a me è piaciuto veramente un sacco quindi facciamo anche questo giro qui Tecnicamente dovremmo fare una cosa che è completamente simmetrica perché ho già calcolato le distanze appunto nel mondo increativo Quindi io rega ve la butto lì, se ce la facciamo al primo colpo voglio subito 2000 like di cattiveria Ecco, già sbagliato, molto bene È la stessa cosa, sì è giusto, molto bene Vediamo quanto, ok, sì, giusto Devo farmi degli slab di quarzo, do andare a prendere la crafting table che abbiamo giù Oddio vado a prendere direttamente un po' di legno, questi sono più comodi Raccogliamo un po' di questi blocchi intanto Ho preso un po' di seal hunter, me le sono fatte prima Quindi qua ci facciamo un bel po' di slab direttamente, questi coi li trasformiamo in blocchi normali Facciamo a cambio un attimino così perché qua c'è da coprire questa Ecco, sapevo che lo facevo più in basso di un blocco Sono da prendere anche le seal hunter e metterne una qua e una qua, ok, così E qua va messo anche uno slab, ok Oddio, dettagliare rega vorrei farlo verso la fine un attimino e farvi vedere come viene il lavoro Però comunque almeno queste cose qui un attimino usiamo a metterle L'unica differenza che noterà che sarà il mezzo che ha il punto, al centro di tutto quanto Sarà questo blocchettino qua di seal hunter che mi delimiterà il centro appunto per costruire in modo completamente simile Comunque raga, ho visto che tanti di voi mi hanno detto che il progetto del... Questo qui vi è piaciuto davvero un sacco, vi ringrazio Che però volete anche, comunque io porto avanti altre cose verso la casa Non vi preoccupate che rega, sabato esce un episodio della vanilla veramente clamoroso Perché farò una roba che in Italia solo una persona fatta e ci ho parlato appunto con questa persona Perché mi ha detto fallo perché saresti il primo, diciamo non big youtube però quasi a farlo E mi farà un sacco piacere farlo perché rega è una cosa veramente clamorosa Anzi, provate a scrivere con l'hashtag clamoroso qua sotto secondo voi di cosa sto parlando Sicuramente nessuno ci azzeccherà Però fidatevi, verrà fuori una cosa veramente bellissima Ora, tecnicamente questo qui dovrebbe essere alto 7 Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, 7 con seal hunter, giusto, ok, perfetto Voilà, molto bene, ok Ora c'è da dettagliare il tutto Però prima io faccio una cosa tattica a questo punto da subito Prendo la concrete orange e faccio il disegnino Che appunto parte per poi delimitare il vetro azzurrino appunto Questo qui che è il light blue stained glass 2 e 1, ok Dovrebbe essere così credo, vediamo Big mistake raga In realtà era 2 e poi si rientrava di 2 in questo modo Molto semplice Stessa cosa bisogna fare da questo lato Quindi si sale di 4 1, 2, 3, 4, 2 E poi all'interno vanno ancora questi 2 Stessa cosa l'aveva fatta a loro di sotto Però a questo punto, bene, gli slab li mettiamo dopo Prima di aver finito tutto il lavoro Quindi mi saranno blocchi da costruzione No, la musica di minecraft, no La musica, no A questo punto, già che siamo qua Possiamo iniziare già a dettagliare il tutto quanto E viene fuori una cosa davvero molto carina Allora, qua sotto piazziamo Una fancy dark oak E una, qua sopra intanto Teresa Mi scrive su whatsapp Poi, sotto Bisogna mettergli uno slab Di red sandstone Quindi mettiamo uno qua sotto Che non lo faccio di concrete Perché innanzitutto non esistono i slab di concrete Due Assomiglia molto al colore della concrete orange Quindi glielo lascio Mi piace davvero un sacco Sopra E poi due vanno messi Uno qua Uno qua Poi Ancora sotto Altri due qua Quindi Uno va messo qua sotto Esatto E uno qua sotto E già qua Facciamo una cosa davvero molto carina Un'altra cosa che va aggiunta Sono questi qua Queste fence qua sotto E altre tre qua Stessa cosa va in alto Ma c'è ancora la musica di minecraft? Ok, quindi Uno qua Uno qua E poi Altri tre qua sopra Perfetto Già Prende molto più colore Molto più forma Ora se è solo da aggiungere il vetro Che però è notte Che però per noi non prendere Perché tanto qua è tutto quanto illuminato Quindi prendiamo un po' di pesce Lo mettiamo Nella seconda mano E prendiamo subito lo stained glass Tanto possiamo metterlo anche direttamente A fianco al piccone E con molta calma Dobbiamo rompere Piazzare Blocchi Per Innanzitutto Non farci prendere dall'acqua Dalla corrente E non farci cadere Ma dobbiamo fare un lavoro Molto meticoloso Perché bisogna stare attenti A non spaccare troppe cose Quindi qua saremo un pochino In guerra Con le correnti d'acqua Ok col vetro Verrebbe una roba del genere Quindi spacchiamo un attimo Le varie impalcature Qua c'è l'acqua Che tra un po' Ok si è tolta Devo farvi vedere però da lontano Però prima Che io ricordi Devo mettere degli altri slab di quarzo Da qualche parte Infatti No c'è un bel lavoro da fare Con gli slab di quarzo In realtà Quindi prendiamoli Quanti ne abbiamo? 40 dovrebbero bastarci Devo metterli No non qua Perché qua Oddio mio Sbagliato Mettiamo questo Mi saranno delle fence Ok Che vanno messe così Poi Riprendiamo gli slab Vanno Che cacchio è successo? Riprendiamoli Mettiamo tutti quanti qua sotto In questo modo Ok E ovviamente Gli altri vanno messi al contrario Cioè Da questo lato Cioè dall'alto Quindi risaliamo un attimino Per comodità Usiamo questi blocchi al volo Quindi uno Due Poi altri due slab qua E no Questo qua non serve in realtà Perché qua ci vanno le fence Mi sono dimenticato Quindi togliamo questo E togliamo questo Bisogna mettere due fence Qua sopra E qua sopra Tecnicamente da ora in poi È finito Perché Diamo un giro al volo Con Il razzetto E questo qui È l'angolo Che appunto Ovviamente Di fare Togliendo ovviamente Tutte quante E idealmente Questo qui L'angolo Allora Visto così Davvero un mastodontico Perché non si capisce nulla Però se lo vediamo Dall'alto Un attimino Viene fuori Una roba del genere È strano Lo so molto bene Però mi piace Appunto perché è strano È proprio bello Mi piace A questo punto Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Cosa ne pensate Ora voglio fare I tre timelapse Dio Tutti quanti insieme Per tutti quanti Altri angoli Ok Abbiamo fatto Tutto quanto Lavoro che c'era da fare Con i vetri E gli angoli Io a questo punto In questo episodio qua Non credo che mi basti Più che altro Perché è l'inizio Appunto Tutti quanti i lavori Di design Se così possiamo definirlo Dell'acquario Non sono andato avanti Rispetto allo scorso episodio Anzi Vi faccio vedere Prima vi parlo di una cosa Vi ho chiesto l'altra volta Però tanti erano presi Dall'hashtag 118 Però Devo togliere Mi sa Quella parte là La porta del portale E spostarla Molto più in fondo Poi venire qua Con l'elitra Perché Non capisco Se si attiva il chunk E la farm Diventa meno efficiente Dove sono i razzetti Quindi Per favore Ditemi voi Cosa sta succedendo Ok Posso volare Grazie Perché Noto che per esempio Qua si forma una zona di ombra Dov'è? Appunto Qua sotto Perché Praticamente Attiva questo chunk Di questa zona qui E vorrei capire Oddio che figata Gli angoli Ma sono bellissimi Dall'alto No raga Andiamo a vedere dall'alto un attimino Che belli Ok Spalliamoci qua sopra Bellissimi Sono molto belli dall'alto Raga E comunque dicevo E quindi non capisco Se devo togliere e spostare Questa parte qua Per aumentare un po' di più L'efficienza della farm In sé Stavo planando giù di cattiveria Quindi Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Se vi piacciono gli angoli E soprattutto questa cosa qua Di togliere La parte in alto Perché non lo so Non intendendomi Non saprei che fare Quindi fatemelo sapere Questo voi Nei commenti Io a sto punto Vi saluto Vi ringrazio Mi spesso Per questo video Qua della vanilla Molto corto Però fidatevi L'episodio di sabato Sarà veramente Una figata colossale Ragazzi Da Mark è tutto Bella